Allora, in questo tutorial vi dirò come scaricare un viewer differente da quello che state usando Molti di voi stanno usando Imprudence che è il viewer consigliato, anche il più semplice da installare però Imprudence ha delle limitazioni ad esempio non è possibile inserire dei video sopra le facce dei prim in Edmondo per cui adesso scaricheremo un programma alternativo che si chiama Singularity Viewer eccolo qua, Singularity Viewer il primo risultato, vedete, è quello giusto da qui è possibile scaricare la versione di Singularity adatta al vostro computer dopodiché si tratta di installare il programma Singularity e a quel punto bisogna però anche configurarlo ecco cosa una volta installato il programma Singularity quando voi lo aprite bisogna innanzitutto andare in questo pulsante premere il pulsante Grid Manager e creare una nuova grid ora che cosa vuol dire diversamente da Imprudence dalla versione di Imprudence che avete ricevuto molti di voi e che era già preimpostata per entrare in Edmondo nei viewer normali invece bisogna impostare Edmondo come si fa? allora si fa premendo il pulsante Crea e a quel punto una volta, ecco, lo faccio di nuovo Crea e bisogna riempire alcuni campi innanzitutto il loginuri scrivendo http www.slw.indire.it www.8002 qui inseriamo OpenSim e qui mettiamo il nome della grid cioè del mondo virtuale in cui vogliamo entrare che è in questo caso Edmondo applica Ecco a questo punto voi nelle grid troverete anche Edmondo tra le varie possibilità Selezionate Edmondo e a quel punto con il vostro account fate login in Edmondo Allora come vedrete indipendentemente dal viewer usato voi entrate sempre nello stesso mondo virtuale Trovate le stesse cose è un po' come quando si cambia browser sul web Non è che le pagine internet cambiano più di tanto forse appena appena cambiano e anche qui in effetti Alcune piccole cose cambiano ma il mondo che si vede e le cose che si possono fare sono le stesse Anzi sono qualcuna in più Ecco ad esempio il famoso, ne abbiamo parlato diverse volte La possibilità di creare un prim e di inserirci sopra un video Inserirci sopra un video, come si fa? Allora io ridimensiono questo pannello Dopodiché vado nella tab texture Metto il full bright, vedete? Serve per togliere dall'ombra la superficie del pannello Allora come si fa a mettere un video? In realtà non è solo che possiamo mettere un video Possiamo mettere ad esempio anche una pagina web Ora se io dopo aver selezionato qui media Premo choose, scegli Ecco qui c'è un punto d'attenzione Dice in questo momento sono selezionate tutte le facce Quindi se voi inserirete un video Questo starà su tutte le facce del prim Come si fa per selezionarne solo una? Vedete qui dove ho messo la freccia del mouse È possibile premere seleziona texture A quel punto io clicco sulla texture che mi interessa E agirò solo su di quella Adesso il video che metterò lo metterò solo su quella faccia Ho premuto choose ed è apparsa questa nuova finestra Che mi permette di inserire un indirizzo web Ad esempio Google Applica una volta inserito E vedrete che adesso Sulla faccia del prim C'è la pagina di Google Che non è un'immagine Tant'è vero Noi possiamo Se deselezioniamo Prima il prim Possiamo fare ricerca Vedete? Cioè si tratta di una pagina web A tutti gli effetti Che è possibile navigare Voi pensate ad esempio Che potreste inserire nel web dei test E poi qui possono essere svolti Ecco però dicevamo Come inserire un video Allora il video Non è così semplice Come si potrebbe pensare Perché qualcuno di voi potrebbe dire Ok allora io vado su YouTube E carico Indico la pagina web Di quel particolare video su YouTube Ma se vogliamo inserire dei video La cosa migliore In assoluto E Scusate lo sto facendo su tutte le facce Adesso sto per caricare il video Seleziono come ho fatto prima La faccia che voglio applicare E a quel punto però Io ci inserirò L'indirizzo web Direttamente del video Che voglio inserire Vi faccio vedere meglio Eccolo qua Ho inserito Se voi ci fate caso Ho inserito proprio L'indirizzo web del video Quindi non la pagina web Ma il file Che sta sul web Quindi dovrete averlo caricato Da qualche parte Lo si vede Dall'estensione MP4 Qui stiamo parlando Proprio di un video E a questo punto Il video può essere visto Sulla faccia del prim Vedete che In alto ci sono anche I controlli Per stoppare Per andare avanti Per riportarlo Da capo Eccetera eccetera Per riportarlo Eccetera 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 Eccetera